io gna la faccio più giuro io giuro gna la faccio ma se può vivere una vita cosi ma se può vivere una vita cosi ma che cazzo ma si può vivere una vita così continuamente continuamente ma si può ma è fattibile ma è fattibile ma io la prima io allora vaffanculo l'1 a 1 dobbiamo non lo so ringraziare il Dio dobbiamo allora metterci lì e fare e fare le come cazzo si dice dobbiamo pregare del fatto che che ci sia arrivata questa benedizione dal cielo dell'1 a 1 dell'1 a 1 e non sapevo manco noi come ci è arrivato ha chiuso dentro al bunker da 20 minuti alla fine e ne ho per tutti ne ho per tutti ne ho per tutti per tutti partendo dal presupposto che a me mi dispiace perché per me il giallo il doppio giallo e Zaleschi non c'era mai perché non c'era mai non c'era mai perché lo dice anche Marelli non ci sono le 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 non c'è il pretesto non esiste il motivo per dare il saluto giallo a Zaleschi però vi posso dire una cosa punto 1 se fosse un'arte Zaleschi fa una cosa buona mai 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 non c'è una volta una volta una volta o una volta che Zaleschi fa una cosa buona mai 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 che volesse che volesse Dio che Zaleschi fa una cosa buona però poverino è giovane è giovane è giovane sempre giovane e gioca fuori ruolo se giochi fuori ruolo se non sei adatto a giocare in questo ruolo fai le valigie e vai basta basta perché io non posso ogni volta perché potrete anche dirmi con tutto il rispetto e l'amore del mondo che il secondo giallo secondo voi non c'è va bene ci sta lo condivido condivido la tesi va bene però porca puttana ma sei già ammonito ma ti ha superato a centrocampo in una posizione tranquillissima tranquillissima motivo per cui non capisco perché cazzo l'arbitro ha dovuto Rapuano ha dovuto dare il secondo giallo una posizione in cui la difesa poteva fare due scorreggie e andare a difendere poteva andare a Christmas World che fanno su Villa Borghese e poi andare a difendere però al di là di questo come esattamente mentre caschi ti allunga la campo per dargli in carce e buttarlo per terra tu che sei già ammonito tu che sei già ammonito per me è una cosa inconcepibile per me è una cazzo di cosa inconcepibile poi se da una parte dico che abbiamo un santo un paradiso perché ne abbiamo preso dall'altra il santo un paradiso penso che però che però ragazzi non lo so c'ha più rivali lui che la Juventus in Italia c'ha più rivali lui che Goku in tutte e tre le saghe mannaia la puttana Di Bala Di Bala 21,59 21,59 non è il versetto della Bibbia di Paolo Di Bala 21,59 sono i minuti che legge Di Bala prima che per l'ennesima volta per la 142esima volta in 142 partite chiede il cambio perché una volta gli fa male il buco di culo perché un altro il flessore e il flessore e il flessore e il flessore porca puttana se il flessore non flette non possiamo sta qui tutta la vita tutta la vita eppure stavolta Di Bala che è fortissimo che io amo che me lo tatuerei in petto 20 minuti dura poi poi con la nostra perché uno dice vabbè se ti si rompe Di Bala non è sfiga è semplicemente Di Bala mi va bene entra Amazon e se fa male anche Amazon per fa che non lo so non lo so manco io come ha fatto a fare quando Amazon vedete la live guardate la cazzo di live quando Amazon ha fatto una cappella perché pareva una cappella perché era chiaro fosse una cappella ho detto e quindi se si era buttato e se si era buttato per te era fa finta che si è fatto male no? ce sta ce può sta lo posso accettare mannaggia la puttana e invece no e invece no e invece non va così perché lui non so in quale universo del mondo non so che parte del corpo ha toccato si fa male si fa male e esce anche Amazon due slot mandati a puttana e l'unico che si era fatto male a ridosso del primo tempo che era Zalesky che tra l'altro per i suoi problemini fisici ci ha fatto giocare i 4 minuti di recupero in 10 perché non era rientrato a fine primo tempo per vedere non brucia lo slot Zalesky rientra felice e contento e si fa buttare fuori che palle che palle che palle poi siamo fottutamente umorali non abbiamo veramente non abbiamo la possibilità con il nostro fottuto cervello di fare uno più uno e ce ne ho per tutti perché oggi tatticamente oggi oggi tatticamente la Roma fa ridere oggi tatticamente per come viene messa in campo la Roma fa ridere fa ridere oggi tatticamente la Roma fa schifo perché perché per tanto tempo proviamo a giocare a pallone sicuramente giochiamo meglio dell'anno scorso stiamo facendo dei grandi passi avanti ma a me sembra che quando succede qualcosa che vada al di là delle nostre possibili conoscenze umane non abbiamo la fottuta pallida idea di che cazzo ci sta succedendo prende il rosso Zaleschi diventiamo diventiamo dei 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 bot che che non ragionano diventiamo dei fottuti bot che non ragionano ma non è possibile prende il rosso parte prima la traversa la traversa di Buonaventura a giro che Buonaventura poi si è pure lamentato quando è uscito oggi Buonaventura si è sbagliato quella è stata una gran cosa ma prima di quella aveva sbagliato anche non lo so anche anche quando hanno fatto la conta per chi va in porta lui ha tirato tre ha contato due ha sbagliato pure quello vabbè una traversa a giro non lo so se sembrava lì o nel Messi traversa rosso Zaleschi tutto in un minuto Martinez quarta tutti fermi in aria io io faccio una fatica assurda assurda a dirvi se i difensori della Roma sono dei giocatori che vanno tenuti l'anno però sono dei top player o dei paracarri di merda cioè Llorente nel finale fa una chiusura che porca la vacca mi ha gasato mi stavo per strappare la felpa ok me la stavo per strappare da quanto ero gasato ok quindi fomentatissimo io fomentatissimo però sul gol non so Llorente che cosa stava facendo stava girando il brodo thailandese stava girando stava girando il pad thai il riso thai il pad thai stava girando cioè quello salta poi salta non è che ha fatto non è che Martinez quarta è saltato imperioso ha fatto un saltello e invece fa un salto in alto Llorente che dorme in piedi gli va dietro fa così abbassa la la capoccia e mi dispiace perché oggi Rui Patrizio per distacco per distacco per distacco è stato il migliore in campo per distacco ci ha parato il culo a più riprese e oggi gli va fatto un grande comprimento ma una statua oggi a Rui Patrizio gli va fatta una statua per quel cazzo che ha combinato e io lo dico con grande chiarezza e a me Rui Patrizio non mi piace io a giugno lo cambierei molto volentieri però diciamo le cose come stanno non è che devo giocare con i paraocchi ok non devo parlare non devo tifare con i paraocchi oggi a Rui Patrizio gli ho fatto un complimento enorme 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 però mi dà fastidio perché allora vabbè io poi gli ultimi secondi li capisco ma ne parliamo 11 contro 9 vabbè però al di là di questo ma possibile porco cazzo che in 11 contro 10 a 20 minuti dalla fine l'unica cosa che ti viene in mente di fare è chiuderti tutto dietro cioè per me è che è una cosa inconcepibile inconcepibile ma quante squadre giocano in 11 contro 10 e che fanno tutte chiuse dietro stanno ma non dico che devi giocare all'attacco anche perché prima che se fosse facesse butta fuori Zaleschi la Roma aveva fatto un pressing alto pazzesco cioè stavamo giocando proprio con tutti i giocatori nel centrocampo loro cioè quindi era qualcosa di veramente buono di veramente positivo perdi un uomo diventi stupido diventi stupido diventi stupido tutti dietro tutti chiusi arroccati non riesci a fare un palleggio prendi e spazzi via la palla cose che non capisco cose che non comprendo cose che non capisco e lì il problema è tattico lì il problema è tattico e poi l'unica che ti viene da mente da fare è da un bigliettino a un raccatta palle che fa il giro del campo e da un bigliettino a Rubadito dove c'è scritto sciale boom no c'è scritto tipo il Sharawi e Bove c'è scritto Shabov veramente però a parte tutto e saluta Enzo cioè che cazzo era cosa voleva dire come difendere sui corner era come difendere sui corner io basito si fa male Dica dico ragazzi cioè io mi aspettavo che con Dica che era a terra seduto con Dica che era a terra seduto mi aspettavo che quantomeno qualche calciatore andasse da Murigno o Burigno chiamassasse qualcosa per dare delle indicazioni per capire come rimettersi in campo perché l'obiettivo comunque deve essere debuttare la palla in rete poi se pareggi pareggi ma l'obiettivo deve essere debuttare la palla in rete tutti fermi tutti che nessuno se ne fotteva nessuno gliene fregava un cazzo niente zero nisba nada di quello che sarebbe successo nulla tutti fermi cartellino rosso di Romelu Lukaku 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 io ti amo per il gol che hai fatto ti amo in generale fa un gol bellissimo Lukaku bellissimo perché veramente si infila benissimo bravo Christensen famo un complimento anche a Christensen che poveraccio ha fatto un partitone bello 1-2 con Di Bala Di Bala metto dentro Lukaku bene poi però Lukaku ragazzi ha smesso di giocare sessantesimo ma perché tu non puoi giocare e poi questo questo è semplice cioè non serve avere il certificato a Coverciano non serve essere passato dai famosissimi corsi di Mazzarri a Coverciano per sapere che porca vacca se c'è un attaccante fisico che quello che fa è proteggere il pallone e aspettare che arriva qualcuno ma a Roma non gli arriva nessuno perché giocavamo in 10 e stavamo tutti rincoglioniti schiacciati non è così tanto difficile difficile comprendere che forse è meglio toglierlo Lukaku che è arrivato su quel pallone stanco morto a me non mi sembrava rosso quello di Zaleski non esiste quello di Lukaku era rosso lo rivisto era rosso però che cazzo è una cosa che non mi è piaciuta per niente e qua parlo direttamente con Murigno è l'italiano fa i campi giusti l'italiano sente l'odore del sangue e quindi butta dentro Nico González butta dentro Sottilla inizia a mettere dentro tutti gli attaccanti come giusto che sia perché comunque quando stai lì in quel momento che ti rendi conto che puoi buttare dentro la palla è giusto che fai entra tutti gli attaccanti uno dopo l'altro e infatti la gioventina continua a insista 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 rompe i coglioni come giusto che sia come corretto che sia perché lì non c'è niente di male niente di male qual è il problema il problema è che io in live dicevo in live dicevo ragazzi ma adesso insomma aspetto che Mourinho visto gli è rimasto uno slot di cambio uno no dodici uno slot di cambio faccia tre cambi tutti insieme per dare freschezza al reparto quindi mi aspetto che levi Lukaku perché era morto che levi Christensen perché non ne ha più e che levi magari anche non lo so un altro esterno ma che comunque vabbè lasciano avere appena entrato ma che comunque cambi gli esterni mettendo magari Spinazzola mettendo Selic mettendo Karsdor che magari non sono fenomeni però ci hanno corsa e mettendo magari un Belotti davanti oppure non vi mette Belotti Sposi e Ceraqui davanti che fa un po' da boa e che non dà punti di riferimento e allarghi con Selic e con uno della Spinazzola e Karsdor cosa fa lui? Leva pellegrini per mettere bove ora spiegatemi voi spiegatemi voi che cazzo di senso c'ha in una roba che viene presa a pallonare che non ne ha più che Karsdor poveraccio bisognerebbe fare una statua per come cazzo ha giocato per 90 minuti tu mi fai tutta la partita tenendomi in campo sono partiti sono partiti in undici due si sono rotti due sono stati espursi quindi ne rimangono undici dieci nove otto sette tu mi hai fatto tre cambi perché non me ne hai fatti cinque cioè tu potevi veramente concludere la partita con tutta gente fresca o quasi cercando appunto di partire in contropiede di mettere qualcosa no 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 mi vai a fare un cambio inutile inutile io poi amo bove ma un cambio inutile buttando dentro bove e pellegrini che non dà velocità dà spirito di sacrificio si potevi metterlo potevi mettere bove e pellegrini facendo entra Belotti per Lukaku prima che si facesse butta fuori mannaia la puttana o comunque sportavia c'era qui davanti e cambiavi gli esterni no no hai dovuto mettere bove per pellegrini e basta e rimanere con due cambi in panchina Belotti ancora si sta scaldando poveraccio poi se a gennaio se ne fa via comincia a fa go perché c'è là è però è però un cazzo se non lo fai giocare è però un cazzo sempre ste figure di merda sempre sti macelli finire in nove le partite sono stufo